Garantiamo la sicurezza ma soprattutto garantiamo che anche quest'anno l'evento possa invadere le strade del nostro paese con quella gioia e con quella spensieratezza di cui tutti abbiamo così tanto bisogno. Edizione numero 274 della Fiera di Arsego, tra le più grandi e antiche dell'Alta Padovana, sicurezza in primo piano per garantire moltissimi eventi e gli stand gastronomici. Posso anticiparvi che torna l'Expo, uno dei punti forti della nostra Fiera di Arsego da sempre, ci sarà il tradizionale mercato del bestiame, ci sarà un grandissimo Luna Park, ci sarà un mercato con più di 300 bancarelle, ci saranno gli stand gastronomici con le pietanze tradizionali, ci sarà il mercato dello street food, quindi ci sarà veramente ogni cosa. Tra le novità, l'area Mercatorum con i figuranti medievali e AgriFarma dove i bambini potranno salire sui poni. Per accedere alla fiera è necessario il Green Pass e ci saranno controlli a campione nell'area della Kermess. Anche la Fiera di Arsego sarà accessibile solo alle persone munite di Green Pass, ovvero con il vaccino fatto nei giorni prima dell'evento come previsto da legge oppure con il tampone fatto nelle farmacie o nei punti ospedalieri e quindi con il classico Green Pass con cui entriamo tutti i giorni al ristorante e con cui entriamo tutti i posti dove è previsto. Previsti anche i controlli ai varchi con il conto a persone che segnalerà la capienza massima di presenti all'interno dell'area della Fiera, imponente il dispositivo di sicurezza con oltre 100 persone impegnate tra volontari di protezione civile e agenti di polizia locale.